Il nostro sindacato è nato oltre 50 anni fa e quindi ha accompagnato la transizione da quello che era l'organizzazione della sanità pre-riforma sanitaria che ha costituito il Servizio Sanitario Nazionale sino ad l'attuale situazione praticamente affrontando tutte le tematiche di riorganizzazione dei servizi comunali dei veterinari per poi passare al sistema delle aziende sanitarie e dei dipartimenti di prevenzione. Il sindacato ha lavorato in lunghi questi anni moltissimo dal punto di vista della normativa che riguarda l'organizzazione e ha praticamente generato la costituzione del Dipartimento di Prevenzione. È frutto di un grosso lavoro del sindacato la costituzione di un dipartimento che è proprio caratterizzato come struttura dell'azienda sanitaria a tutela della salute comune, uomo, animale e ambiente. Abbiamo lavorato poi su quella famosa legge del 502, il decreto di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, anche per perfezionarlo negli anni, per cui c'è stata una continua manutenzione normativa alla quale il sindacato ha partecipato. In questi lunghi anni poi abbiamo lavorato moltissimo sulla nostra organizzazione costituendo una società scientifica, costituendo una federazione di sindacati, una confederazione di sindacati, per cui abbiamo articolato la nostra attività sindacale su molti fronti, dal Ministero della Salute al territorio, alle regioni e ora nella Confederazione Cosmed abbiamo tutta la rappresentanza del pubblico impiego, della dirigenza del pubblico impiego e rappresentiamo la più grande organizzazione confederale della dirigenza pubblica. Quindi insomma in 50 anni questi 50 congressi hanno contribuito moltissimo all'elaborazione di strategie che si sono dimostrate vincenti, per cui abbiamo una forte partecipazione, siamo rappresentativi in tutti i comparti e c'è, lo dimostra questo congresso, c'è una partecipazione anche di giovani che ci fa molto piacere. Vuol dire che il sindacato è ancora una funzione viva, è un mondo vivo di questo paese e certamente ne avremo bisogno perché i problemi dei lavoratori non si saranno risolti una volta per tutti neanche facendo il nuovo contratto di lavoro che stiamo trattando in questi giorni. Ecco, quindi guardando al futuro e guardando più specificatamente alla professione tra lavoro, carenza di personale, il contratto e le pensioni, sono ancora tanti problemi da risolvere. Voi cosa pensate si debba partire e cosa si può fare? Intanto denunciamo una disattenzione cronica sulla sanità pubblica o una volontà malcelata di smontare la sanità pubblica e di fare andare a ramengo un sistema che ci viene riconosciuto tra i migliori in tutto il mondo. In particolare i servizi veterinari italiani sono un modello di riferimento e veniamo chiamati per organizzare i servizi veterinari, per insegnare a organizzare i servizi veterinari in tutti i paesi che vogliono entrare in Unione Europea e anche nei paesi terzi nei quali abbiamo dei partnership di tipo commerciale perché quello che forse non si sa o non si capisce abbastanza è che la veterinaria oltre a tutelare la salute dei consumatori, del naturalmente il benessere degli animali e la salute animale e impedire che ci siano patologie che passano dall'animale all'uomo serve moltissimo per certificare e accreditare le filiere di produzione zootecnica agricola e alimentare per permettere quindi ai nostri prodotti nazionali di stare sui mercati internazionali, per poter esportare. Senza la certificazione veterinaria gran parte di quello che è il prodotto interno nord dell'agroalimentare italiano non uscirebbe dalle nostre frontiere. Detto questo noi adesso stiamo affrontando una fase critica perché stanno convergendo fattori critici di ordine naturale ci sono molti veterinari che stanno invecchiando ovvero raggiungono l'età massima di pensionamento e quindi li vedremo uscire nei prossimi anni. Abbiamo già perso il 10% degli organici nel giro di 5 anni uscirà il 40% di chi è rimasto. Uno stress importantissimo, dovremo cercare immediatamente di reintegrare quelle posizioni ed è un problema perché c'è stato il blocco del turnover nella sanità pubblica in questi anni e non ci sono riserve per noi come non ci sono per i medici ospedalieri quindi abbiamo grandi difficoltà a reimpiegare nuovi veterinari giovani veterinari che sono disoccupati e aspettano solo di poter lavorare. Poi abbiamo il problema non irrilevante di una contrattazione attualmente inadeguata sono 10 anni che aspettiamo di fare un contratto di lavoro mancano degli elementi che sono insignificanti dal punto di vista economico degli aspetti che non hanno una grande rilevanza ci aspettiamo che il governo insieme alle regioni che hanno già condiviso le nostre richieste sono disposte a riconoscerci ciò che noi chiediamo il governo dia l'ok e quindi con la legge di bilancio si risolvono alcuni nodi che ci permetteranno di chiudere il contratto di lavoro dopo 10 anni di attesa il personale ha bisogno di avere un minimo di remunerazione altrimenti la motivazione viene meno e quindi insomma il segnale ci deve essere è arrivato il momento di darlo.